La forza di Lorenz Il cosiddetto specchio magnetico Abbiamo una regione in cui è presente un campo magnetico Il campo magnetico è uscente ed è definito in tutti i punti della zona rosa All'esterno di questa zona abbiamo una particella carica con Q negativa E abbia anche una massa M Al di fuori della zona rosa questa particella non incontra nessun campo elettrico e campo magnetico La forza gravitazionale la trascuriamo pure Quindi in questa regione la particella non è sottoposta ad alcuna forza E poiché già si trova con una velocità V diretta in questa direzione E la direzione è a 90 gradi con questa regione Allora si muoverà di moto rettilineo uniforme Quindi entra in questa regione formando un angolo di 90 gradi Nel momento in cui entra nella regione rosa Allora è sottoposta alla forza di Lorenz Appare la forza che abbiamo visto che è una forza centripeta E quindi la nostra carica comincia a descrivere una circonferenza Arrivata in questa posizione la carica esce dal campo magnetico E quindi esce secondo la tangente alla traiettoria E quindi lo fa con un angolo di 90 gradi Quindi vediamo come la particella stia entrando a 90 gradi In questa regione e viene espulsa dalla stessa sempre a 90 gradi Quindi è stata riflessa con lo stesso angolo di incidenza Da ciò il nome di specchio magnetico Il raggio della circonferenza sappiamo essere adatto da questa espressione Quello che abbiamo visto può sembrare una semplice curiosità Invece è il punto di partenza per costruire una importante apparecchiatura scientifica E cioè lo spettrometro di massa Gli spettrometri in generale sono strumenti che consentono di analizzare La composizione di un flusso di radiazione o di particelle Lo spettrometro di massa analizza la massa di un fascio di particelle Separandole E' grazie agli spettrometri di massa che sappiamo dell'esistenza degli isotopi Vediamo rapidamente il principio di funzionamento di uno spettrometro di massa Qui vedete la medesima situazione che abbiamo visto nella slide precedente Ora però in questo punto di ingresso Arrivano sia particelle con massa m1 che particelle con massa m2 Per semplicità supponiamo che la carica sia la stessa per entrambe E supponiamo ancora che la velocità sia la stessa Per quello che abbiamo visto poco fa Ognuna di esse descrive un raggio Che a parità di condizioni dipende solamente dalle masse Quindi il raggio della particella 2 Che per ipotesi ha una massa maggiore Sarà più grande del raggio descritto dalla particella 1 E il rapporto tra i raggi di queste due traiettorie E' proprio pari al rapporto delle masse Per cui potendo misurare questi due raggi Si misurano con relativa facilità Allora si conosce il rapporto tra le masse Questo è in parole povere Il principio di funzionamento dello spettrometro di massa Per chi vuole approfondire Consiglio di dare un'occhiata a Wikipedia Alla voce spettrometro di massa Qui ne mostra uno del 1989 Quelli odierni hanno dimensioni più contenute A partire da questo computer che vedete sulla destra Gli isotopi dovremo sapere che cosa sono Si tratta di atomi di una medesima specie chimica Che sono caratterizzati dall'avere lo stesso numero atomico z Cioè il numero dei protoni E invece differiscono per il numero dei neutroni Cioè per il numero di massa In figura è mostrato un tipico spettrometro di Dempster Allora qui abbiamo una sorgente di ioni Gli ioni vengono immessi in questa regione Con una velocità molto bassa Che possiamo ritenere pari a zero In questa regione è presente un campo elettrico Che accelera gli ioni A causa della presenza di questa differenza di potenziale Quindi questa regione è sostanzialmente un condensatore Qui dobbiamo notare che tutte le particelle Che hanno la stessa carica in questo punto Si troveranno qui Indipendentemente dalla massa posseduta Con la medesima energia cinetica Quindi state attenti In uscita qui se avete degli isotopi Non avete particelle con la stessa velocità Ma con la stessa energia cinetica Qui vediamo la traiettoria di una di queste particelle E possiamo scrivere facilmente delle espressioni Per arrivare a determinare il rapporto Q su M Conoscendo alcune grandezze fisiche di questo setup sperimentale Per esempio L'energia cinetica con cui la particella si presenta All'uscita di questo condensatore Quindi all'ingresso del campo magnetico È data dalla seguente famosa relazione Quindi abbiamo convertito energia potenziale in energia cinetica E la velocità è data da questa relazione Ora sappiamo che il raggio è il seguente E posso prendere questa espressione E metterla al posto di V E con un po' di algebra si arriva a quest'altra Da questa risolvendo rispetto a Q su M Si giunge a questa espressione Per cui conoscendo qual è la differenza di potenziale Il raggio che si può misurare E il campo magnetico Si arriva a determinare questo rapporto E ora un altro esempio Qui abbiamo quello che abbiamo visto nell'esempio iniziale Ma la particella non entra ad angolo retto Nella regione sede di campo magnetico Ma lo fa con un angolo alfa Quindi l'angolo di incidenza vale alfa All'ingresso la particella Come al solito comincia a descrivere una circonferenza Ma questa volta viene espulsa rapidamente E quindi in uscita procede lungo la tangente alla traiettoria La domanda è Quest'angolo qui L'angolo di uscita È uguale all'angolo di incidenza? E la risposta è sì Vi do qualche elemento per arrivarci da soli dopo E cioè Notate che il centro di questa circonferenza Si trova fuori dalla regione Questi due punti stanno ancora sulla circonferenza E quindi distano dal centro R E poi bisogna ricordare che questa velocità Essendo tangente alla traiettoria sia qui che qui Risultano essere perpendicolari al raggio E adesso con un po' di geometria Ragionando sugli angoli Si vede che questi due sono uguali Quindi indipendentemente dal valore della carica Della massa E del modulo della velocità L'angolo di uscita sarà sempre uguale all'angolo di ingresso Qui sto naturalmente immaginando che L'unica forza in gioco sia soltanto quella di Lorenz E adesso passiamo ad un altro importante strumento Che viene usato anche in congiunzione con gli spettrometri di massa Cioè il selettore di velocità Qui notiamo un condensatore Che può essere mantenuto ad una certa differenza di potenziale Delta V E quindi all'interno di questo condensatore Potrebbe esserci richiesta un campo elettrico diretto Supponiamo in questo modo Dentro questo condensatore Viene immessa una particella carica Che per il momento supporremo negativa E diretta con una velocità Perpendicolare alle linee del campo elettrico Se il campo elettrico non è presente E non è presente nessun'altra forza La particella procede indisturbata Di moto rettilineo uniforme Se invece accendiamo il campo elettrico Allora dopo un tratto in cui procede di moto rettilineo uniforme La carica all'interno viene deflessa Descrive un arco di parabola Poi esce e procede di moto rettilineo uniforme Quello che si fa adesso E accendere all'interno del condensatore Anche un campo magnetico diretto verso l'interno E' perpendicolare sia al vettore campo elettrico Che alla velocità iniziale Qui abbiamo lo stesso schema ma visto in sezione Quindi abbiamo il condensatore Con le linee del campo elettrico E il campo magnetico invece entrante Quindi in tutti i punti Abbiamo questo vettore campo magnetico entrante Se la particella adesso entra e sono accesi Sia al campo elettrico che al campo magnetico In ogni punto della traiettoria All'interno di questo condensatore La particella subisce due forze Una dovuta alla forza elettrica Ed un'altra dovuta alla forza di Lorenz Che costringe la particella a descrivere Una circonferenza ma in quest'altra direzione Se queste due forze fossero uguali e contrarie Allora in tutti i punti di questa traiettoria La particella è soggetta ad una forza nulla E procederebbe indisturbata in linea retta Qual è la condizione affinché la particella Esca indisturbata Cioè affinché la forza totale sia nulla Deve verificarsi questa condizione Cioè v deve essere uguale a questo rapporto E allora come viene usato questo dispositivo? In generale all'interno del condensatore Entrano particelle con qualsiasi velocità Agendo sul campo elettrico Quindi modificando la differenza di potenziale Si può fare in modo da selezionare Quelle particelle che hanno come velocità Proprio questa qui Le particelle che non hanno questa velocità Saranno deflesse o verso l'alto O verso il basso E quindi saranno scartate Dopodiché questo fascio di particelle In genere viene filtrato da una serie di fenditure Per far sì che il fascio sia ben collimato E quindi al termine Grazie a questo dispositivo Possiamo avere in uscita Particelle dotate di una particolare velocità E chiudiamo con la scoperta dell'elettrone Compiuta da Thomson nel 1897 Qui vediamo una strumentazione Piuttosto complicata Ma in realtà è semplice da comprendere Quello mostrato è un grosso tubo Sigillato In cui è presente del gas E si può modificare la pressione Questo gas Qui abbiamo il catodo Che ha il compito di fornire elettroni E qui abbiamo l'anodo E tra catodo e anodo Vi è una differenza di potenziale abbastanza elevata Ciò che accade è che questi elettroni Una volta accelerati Proseguono in linea retta Qui c'è uno schermo E si osserva un puntino Su questo schermo fluorescente Questo puntino luminoso che si osserva qui È dovuto agli elettroni Ma in questi anni Questo non si sapeva Si osservava però Grazie a questo dispositivo La presenza di un puntino luminoso qui A causa di qualcosa che accadeva qui dentro E di cui si ignorava l'esistenza Se si aumentava un po' la densità del gas Allora si osservava un puntino luminoso Non solo qui Ma anche una scia luminosa Lungo tutto il tubo Se invece il gas era rarefatto Questa scia luminosa spariva E rimaneva soltanto la macchiolina Sullo schermo All'epoca non si sapeva Se questi raggi Avessero una natura elettromagnetica Quindi fosse della semplice radiazione O se era dovuto a un fascio di particelle All'epoca sconosciute Quello che fece Thompson È introdurre qui dentro questo condensatore E aumentando qui la differenza di potenziale Notò che questo fascio Veniva deviato verso l'alto E questo suggerì che questo fascio Fosse un fascio di particelle Ed in particolare portavano anche Una carica negativa Ancora non sapeva che si trattava di elettroni A questo punto applicò qui dentro Un campo magnetico diretto verso l'interno E fece variare il campo magnetico In maniera tale da far aumentare La forza di Lorenz su queste particelle Fino a portare di nuovo il fascio In questa posizione Praticamente ha usato un selettore di velocità A questo punto si può ragionare E si può mettere in relazione L'angolo di uscita dal condensatore Con alcune caratteristiche geometriche Qui sono per esempio D D è questa distanza La distanza tra la posizione della particella Quando non è deviata Fino a quando è deviata In corrispondenza di un certo valore Della differenza di potenziale E da questa distanza Dalla distanza che c'è Dallo schermo al condensatore E si arriva a questa relazione Che tra un po' guarderò meglio in dettaglio Inoltre Questa qui è la velocità Che devono avere le cariche Per ritornare nella traiettoria indisturbata Quella tipica del selettore di velocità Sostituendo questa qui Qui dentro Si arriva a questa relazione E grazie a questa Thompson fu in grado di misurare Il rapporto Q diviso M Di queste particelle All'epoca sconosciute Proviamo a vedere più in dettaglio Che cos'è questa relazione In generale Vediamo che cosa accade Qui abbiamo una particella Che sta entrando all'interno del condensatore E subisce la solita deflessione Il solito arco di parabola Dopodiché esce Allora Quali sono le equazioni orarie Di questa particella All'interno del condensatore Se mettiamo l'asse y qui E l'asse x così Quindi lo 0 si trova qui Le equazioni sono queste qui x, v con 0, t, v con 0 E la velocità iniziale E per quanto riguarda y È la solita un mezzo A per t al quadrato Questa qui è l'accelerazione Della particella Da questa equazione si ricava t E si sostituisce x diviso v con 0 In quest'altra Al termine si ottiene questa espressione Che è la tipica espressione parabolica All'interno del condensatore Spero che queste cose siano piuttosto note Adesso ci interessa Determinare l'angolo di uscita Che è anche l'angolo formato dal vettore velocità Con l'asse x È dato da questa relazione Cioè vado a trovare la derivata di y E la calcolo all'uscita Cioè per x uguale a E quindi trovo questa relazione Quindi conosciamo tangente di alfa Ora diamo un'occhiata qui Questa distanza Tra la posizione della particella Sullo schermo Una volta uscita dal condensatore Rispetto allo 0 Del nostro sistema di coordinate È data da questa distanza Chiamiamola h2 Più quest'altra h1 H1 che cos'è? È la y All'uscita del condensatore Quanto vale? In questo momento non ci interessa Ci interessa una espressione approssimata Se abbiamo cura di mettere lo schermo L Molto lontano rispetto al condensatore Allora la distanza D è la somma di h2 di h1 Posso porla in questo modo E allora se h1 è molto più piccolo di h2 Questa quantità la semplifico E quindi D coincide con h2 Questa distanza h2 Posso ricavarla O guardando questo triangolo rettangolo E quindi h2 è L per tangente di alfa Tangente di alfa l'ho trovata prima E quindi da questa relazione Trovo quella che mi interessa Da cui posso ricavare il rapporto Q su M E con questo è tutto Alla prossima